La città rappresenta un simbolo della nostra città, un simbolo assolutamente indissolubile che lo lega alla nostra città. Quei colori rossazzurri rappresentano qualcosa di più di quello che si possa immaginare. Io credo che non poteva essere individuato slogan migliore, caro Presidente, caro amministratore delegato, di quello che avete individuato per la nostra campagna abbonamento. Sempre trasmesso emozioni della nostra città e i suoi tifosi, quindi complimenti alla società per questa qualificante campagna abbonamenti, per aver anche associato alcuni splendidi monumenti della nostra città ad alcuni giocatori. Io ovviamente posso solo gridare un fortissimo Forza Catania. Ringrazio il nostro CDA che è stato vicino all'andamento della società, hanno curato tutto facendo la propria parte in maniera greca, il Professore Caruso, l'Avvocato d'Egitto, l'Avvocato dell'Italia, il Presidente David Frank. Quando si riguarda l'altra società c'è bisogno di un consiglio di amministrazione e soprattutto in questo ultimo periodo che il l'Avvocato d'Italia ha avuto un bisogno e è stato aperto, esposto a tante intemperie. Magari negli anni di serie A loro sorridono quanto io dicevo che i miei anni di serie A non avevano bisogno di consigliere amministrazione perché non aveva problemi. era una macchina e andava avanti in un certo modo. Ma io ringrazio quegli lavori che hanno fatto, un lavoro veramente proteggo. Ringrazio il nostro reduttore sportivo che lavora con la macchina una sera e se lamenta sempre di non fare vacanze. Evidentemente cert'oltre mi metto a riflettere. Dico ma io forse dovrei essere un po' più paziente. Assolutamente sì, dopo qualche giorno di lacrime, oggi finalmente sono felicità. Il Catania Calcio riveste un approccio di grande importanza non soltanto nel senso sportivo ma per la città nel suo complesso. Vi è un vincolo indissimo del Catania Calcio, un vincolo di Costa Azzurri alla storia della nostra città, motivo per cui noi oggi con grande emozione abbiamo accorto i vernici della società, i calciatori, tutto lo staff all'interno di questo prestigioso salone nella speranza di poter accompagnare il Catania Calcio lungo un percorso che possa regalare alla nostra città eccezionale di tutto. Credo che ci sia tutte le condizioni per determinarli. Noi svolgeremo la nostra funzione con determinazione edizione.